Qual è il miglior business online che puoi iniziare nel 2020 senza soldi? Se sei chiaramente all'inizio del tuo percorso, magari studi, magari lavori, però hai delle spese da pagare, ma vuoi comunque avviare un tuo business online, saprai che spesso in giro molti dei modelli di business proposti richiedono degli investimenti, non tanto sulla formazione, che quello andrebbe fatto in ogni caso, ma soprattutto per quanto riguarda proprio l'avvio e lo scaling del business. Quindi per esempio l'affiliate marketing devi spendere per la pubblicità su Facebook in modo tale poi da fare vendite e quant'altro. Esistono però dei modelli di business che si possono avviare anche senza investire dei soldi. Puoi farlo sia investendo dei soldi sia non investendoli, dipende un po' come preferisci, in che situazione sei e quant'altro. Questi modelli di business sono quelli che si basano sull'erogazione di un servizio, quindi tu scambi il tuo tempo per fare qualcosa per qualcuno, che è la stessa cosa poi che fa un libero professionista o anche un dipendente in realtà, semplicemente un dipendente lo fa sotto stipendio, un libero professionista lo fa per dei clienti. Ora, che cosa puoi andare a erogare, che servizio puoi andare a erogare, dipende un po' dalle tue conoscenze, dalle tue capacità. Restando nel campo dell'online, sicuramente se sai fare siti web, se sai fare grafiche, se sai scrivere, tipo copywriting eccetera, sono tutti servizi che puoi erogare da casa, lavorando online, per dei clienti. Anche per esempio gestire i social, quindi social media management. Quello che però secondo me è il miglior business da andare a fare, soprattutto all'inizio, che è ciò con cui ho iniziato anche io realmente a fare i primi salti di qualità nell'online, è il social media marketing agency. Questo modello chiamato SMMA, quindi social media marketing agency, o più diciamo vago social media marketing, che cos'è? Consiste nel fare attività di social media marketing, ovviamente, cioè di vendita, gestione anche dei social si serve, ma soprattutto di vendita di marketing sui social. Quindi faccio delle Facebook ads per una piccola e media impresa, per un mio cliente, e lo aiuto a vendere online. Perché? Perché per esempio magari il tuo cliente è un nutrizionista, è un personal trainer, è un dentista, è un agente immobiliare, o quello che vuoi, fa già il suo lavoro, non ha il tempo di imparare delle competenze di marketing, testare, fare anni di esperienza, per poi andare dentro al mercato e spingere bene, no? Quindi si vorrà affidare a delle persone esterne. Benissimo, quella persona esterna potresti essere tu. Ovviamente ti devi formare, ma fidati che non servono anni di esperienza per fare delle cose performanti, per portare dei risultati ai clienti. Spesso basta un buon corso, una buona formazione, qualche settimana, qualche mese di esperienza, magari i primi clienti, i primi due fai dell'esperienza gratis, quindi ti dici, guarda, il mio servizio non lo paghi. Io lavoro con i tuoi budget, perché ovviamente in questo modello di business i budget pubblicitari li mette il tuo cliente, perché è una sua spesa pubblicitaria, e dici, io ti gestisco i budget, testo queste cose che ho imparato, vediamo effettivamente come farle andare bene, tu metti i budget, facciamo così per i primi due mesi, tu ti fai la tua bella esperienza, fai i primi case study, il primo case study, i primi due case study, e dopodiché inizia ad acquisire clienti che invece ti pagano, quindi loro pagano la parte pubblicitaria, pagano un compenso a te, e tu lavori rogando un servizio, un servizio che puoi comunque fare in leva, perché una volta che hai impostato il sistema di marketing, non è che devi stare lì tutto il giorno, 24 ore su 24, a monitorarlo, anzi, cioè puoi farlo, ma se hai tanti clienti, man mano lavori su tanti clienti, però spesso ti bastano poche ore al giorno per portare tanti profitti, per avere uno stipendio, diciamo, italiano medio-alto, quindi andare a guadagnare mille 8-2000 euro al mese netti, ti possono bastare 3-4-5 clienti ben posizionati, ovviamente dovrai avere partita IVA, cioè non subito, all'inizio puoi anche lavorare in prestazione occasionale, specialmente nel momento in cui sei ancora in test, quindi stai imparando, hai trovato alcune persone, alcuni clienti, che ti danno l'opportunità di imparare, di fare esperienza con loro, lì non stai guadagnando niente, quindi non è che ti serve partita IVA, successivamente ovviamente la dovrai andare ad aprire, dovrai regolarizzarti su tutto quanto, e diventare veramente un professionista del settore, però dato che è un lavoro di alto valore, tu puoi andare a guadagnare tanto su ogni singolo cliente, perché? Perché se tu lo aiuti a fare marketing online, lo aiuti a fare più clienti, per esempio a generare contatti di potenziali clienti, quindi gli fai di generation su Facebook, questa azienda per esempio ha un commerciale che incontra i clienti e gli fa le vendite, tu gli porti i contatti di clienti interessati già al suo prodotto, questo è una cosa di altissimo valore, perché gli aiuti a aumentare i fatturati, ti fai una proiezione su quanti fatturati gli puoi portare, quindi per esempio, ok, voi chiudete il 10% dei clienti, benissimo, quindi 10 clienti su 100, facciamo in modo di portarti 100 o anche 200 contatti di potenziali clienti ogni mese, quindi 200 contatti, metti che li paghi 5 euro l'uno, che è tanto, spendono 1000 euro in ads, il tuo cliente spende 1000 euro in ads, che gestisci tu, per avere 200 contatti, ne chiudono il 10%, chiudono 20 persone, queste 20 persone quanto gli valgono, ipotizziamo che magari, che ne so, penso a un nutrizionista che conosco che ha 200 euro di prima visita, 20 persone per 200 euro sono 4000 euro di fatturato in più, meno 1000 di ads sono 3000 di profitto, tu da quel 3000 di profitto è naturale che vada a chiedere 500, ma anche 1000 euro per il tuo servizio, perché gli stai portando un servizio di alto valore solo sulla prima vendita, perché poi ovviamente dopo la prima visita queste persone torneranno, quindi 100 euro a botta per ogni visita nell'arco dei mesi successivi, e quindi questi clienti qua, questi 20 clienti, metti che non tornano tutti, metti che ne tornano solo 10 per i mesi successivi, per due mesi per esempio, sono altri 200 euro, quindi altri 2000 euro, 200 euro per ogni persona, quindi altri 2000 euro, e quindi hai generato veramente tanto, tu fai il calcolo sul primo mese, sul guadagno diretto, glielo vendi in questo modo al tuo cliente, e vai ad avere un cliente che ti dà 5-600, magari 1000 euro al mese per il tuo servizio, perché tu gli porti tanto valore, gli fai guadagnare ancora di più, e quindi è contento, e quindi resterà per sempre, perché ovviamente se lo fai guadagnare, lui resta con te finché lo fai guadagnare, e tu con 2-3-4 clienti vai a farti veramente un bello stipendio, perché dico 2-3-4, anche se magari ti dà 1000 euro al mese, 12 potrebbero bastare, però in realtà, se tu fai fattura, sei in regola e tutto, devi togliere le tasse, quindi 1000 euro, 400, 500, 300, dipende dalla tua situazione, vanno in tasse, quindi magari su 1000 euro, te ne restano 600, benissimo, 3 clienti, sono 1800 euro al mese, fai 5 clienti, così abbiamo un po' di margine, e te la giochi bene, quindi il modello di business, social media marketing agency, è secondo me, il modello di business migliore, per iniziare, è quello che a me ha permesso, di capitalizzare all'inizio, fare i primi soldi, fare le prime esperienze, seriamente, poi col tempo, io mi sono sposato anche, sull'affiliate marketing, l'ho diversificato, in modo da avere queste due linee di business, da un lato più scalabile, dall'altro più stabile, quindi ci sono pro e contro, ne abbiamo parlato già, tante volte, se vuoi imparare, come iniziare, social media marketing, al meglio, che cosa fare, come, sia lato tecnico, quindi facebook ads, e quant'altro, sia lato di vendita, quindi, come vendere, a un potenziale cliente, quindi a una persona, un'azienda interessata, al servizio, in descrizione, trovi un link, per il miglior percorso, di formazione, in Italia, su questo tema, lo tiene, Giuseppe Guastamacchia, non io, è la persona, con cui tengo anche il podcast, ed è la persona, che ha formato me, sul social media marketing, ormai più di un anno fa, il suo percorso, ovviamente, nel frattempo, è cresciuto, si è evoluto, è migliorato, e posso mettere la mano sul fuoco, che è ciò che ti serve, se vuoi iniziare, se ti manca l'esperienza, o non sai come iniziare, nell'SMMA, è ciò che ho fatto io, all'inizio, e dopo un anno, e più di un anno, sono ancora qui, che, lavoro proficuamente, in questo ambito, quindi direi che, è effettivamente molto valido, nel link, entri nel suo chatbot, lì poi ti spiega tutto quanto, e capisci un po' come puoi fare, e se può essere la persona adatta a te, per andare a imparare SMMA nel dettaglio, secondo me lo è, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente, se hai dei feedback, lasciami nei commenti, metti un piace, condividi tutte queste cagate qua, ma soprattutto iscriviti, così non ti perdi nessun contenuto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao, buon business! e noi ci vediamo al prossimo video,